Grazie alla dottoressa Merola, anche lei perfetta nel rispetto dei tempi e con un accenno al tema Appalti, al tema Expo, che mi fa pensare a che cosa sarebbe accaduto o potrebbe accadere mai se una cosa del genere si organizzasse a Palermo. Aspettiamo a vedere cosa succede a Milano, è infatti, dalla cui relazione comunque sempre per deformazione professionale pensavo a un tema tipicamente costituzionalistico, cioè quello del bilanciamento, che la circolazione dei modelli e delle esperienze dei vari tribunali suggerisce fra la forza di penetrazione che può avere o deve avere la giurisdizione in materia di gestione delle imprese e l'affidamento invece al fisiologico funzionamento delle regole di mercato che però, come ha giustamente premesso la dottoressa Merola, ma che è un filo rouge che lega tutte le relazioni, è in realtà profondamente drogato o alterato dalle infiltrazioni criminali. A questo punto passo la parola al dottor Guglielmo Muntoni, presidente della sezione misure di prevenzione presso il Tribunale di Roma, e alla sua relazione su amministrare per destinare il coordinamento degli interventi del giudice delegato con le pubbliche amministrazioni nella prospettiva del riutilizzo. Grazie. Grazie per l'ospitalità innanzitutto. Allora, il Tribunale di Roma si è trovato in una situazione abbastanza peculiare, soprattutto nel 2013, perché da una media di 8-10 misure di prevenzione patrimoniale all'anno siamo passati a 73 misure nell'arco del 2013. Questo ha determinato la necessità di riorganizzare il lavoro della mia sezione che è riesame e prevenzione. La presidenza del Tribunale ci ha agevolato, siamo stati rafforzati, c'è un collegio adesso che si occupa solo di misure di prevenzione. Per dirvi il livello dei beni che gestiamo, secondo il registro della Cancelleria, noi in questo momento stiamo gestendo, nel senso che non sono ancora passati all'Agenzia, 1.049 immobili, 476 aziende e 362 autoveicoli e varie imbarcazioni. Di fronte al problema ovviamente non solo di sequestrare e confiscare, ma soprattutto di gestire un patrimonio di questo genere in una situazione tra l'altro di crisi economica del Paese, si è resa necessario trovare un modo per avere dei rapporti più approfonditi e chiari con le pubbliche amministrazioni, non solo con la pubblica amministrazione, ma anche con tutti quei soggetti che possono interagire per la miglior gestione dei beni. E quindi abbiamo rubato il lavoro di un anno e mezzo da Teresa Merola e io in una settimana ho preparato il protocollo. Adesso il protocollo, esattamente, analogo a loro con le piccole modifiche, dovrebbe essere approvato entro 15 giorni. E questa è una buona notizia. Il rapporto è intenso ovviamente con gli enti territoriali che saranno prevalentemente destinatari soprattutto dei beni immobili, ma spesso e volentieri anche delle aziende, abbiamo avuto anche dei casi rilevanti recentissimi. Ma soprattutto il rapporto è con Confindustria e Confcommercio per la gestione seria, efficiente del bene aziendale quando questa ha una prospettiva di vita. L'accordo è che vengono indicati una serie di manager, o comunque c'è una consulenza manageriale per la miglior gestione del bene, spesso sono settori in cui l'amministratore giudiziario non può essere preparato, ma stiamo andando anche oltre pensando a certi beni che devono essere tolti al proposto e al suo ambito per affidarli come preposti a soggetti che vengono indicati da Confindustria e Confcommercio tra i manager qualificati del settore. Ovviamente abbiamo pensato subito a possibili vittime di reati, manager o imprenditori vittime di reati da rimettere quindi nell'ambiente del lavoro, o chi per la crisi economica ha perso il lavoro, o a chi nel Lazio si può fare più semplicemente che in Sicilia, ha già un'attività imprenditoriale, si vuole espandere e allora gli diamo in affitto magari alla nostra azienda e c'è un diritto di prelazione alla fine per rilevarla. Mi rendo conto che qua i problemi sarebbero un pochino complessi. Quindi il primo risultato da chiedere all'amministratore giudiziario è di verificare se il bene che sequestriamo ma subito, al momento del sequestro, ha una possibile destinazione per fini istituzionali o sociali. O se invece deve essere immesso nell'economia, nel mercato perché non può avere alcun esito, oppure se invece è un bene addirittura da eliminare, da dissequestrare perché non ha nessuna possibilità di sviluppo. Pensiamo agli esercizi gestiti da cinesi che vendono in affitto, magari con il contratto di locazione in arretrato e che vendono solo materiale contraffatto o pericoloso, si deve solo chiudere e liquidare le liquidabili. Per i beni che invece possono avere una destinazione pubblica, grazie al protocollo, l'idea è di sviluppare al massimo e l'intesa con il Comune e Regione è già piuttosto importante, per assegnarli dal momento del sequestro attraverso i comodati gratuiti o con locazioni agevolati, il bene con quella finalità. Qui si presenta ovviamente un problema che è legato appunto a questa visione fallimentarista del codice antimafia, perché ovviamente io un immobile intanto lo posso destinare di fatto anticipatamente, in quanto sono sicuro che non lo devo vendere un domani dall'udienza di verifica crediti, perché utilizzare l'immobile per mettere un commissariato di pubblica sicurezza non è che dopo due anni dico buongiorno devo vendere la casa e dovete uscire, non sarebbe assolutamente serio. Qui si spera magari che ci possa essere una modifica legislativa, già anche nella Commissione Garofoli si parla di destinazione anticipata dei beni, ma per coerenza si dovrebbe anche dire che allora questo bene all'udienza di verifica crediti se resta la procedura che c'è, anziché vendere il bene interverrà o lo Stato con il suo fondo o il fuoco o chi volete a dare la somma corrispondente al valore del bene che ha già una destinazione pubblica. Avendo un patrimonio immobiliare così enorme le esigenze che possiamo soddisfare sono assolutamente infinite, però abbiamo soprattutto sotto il profilo non solo del riutilizzo da parte della collettività ma anche di una riduzione delle spese della pubblica amministrazione, perché tutti sapete che i commissariati per lo più sono in locali in affitto, così come molte caserme e il risparmio è enorme. Faccio ad esempio una palazzina che forse adesso andrà alla Legione Carabinieri di Lazio che mi diceva il generale che determinerà un risparmio di mezzo milione l'anno. Cioè ci si paga i lavori di ristrutturazione e ci guadagna già nel primo anno. Per le aziende, che credo sia l'argomento più interessante in questa sede vista la necessità di sintesi, come si diceva prima, la prima operazione che si deve fare è la messa in legalità dell'azienda. Sempre che sia ovviamente operativa. La messa in legalità significa affrontare dei costi, i cosiddetti costi di legalità che sono notevoli, perché si tratta di mettere in regola i dipendenti, si tratta di mettere in sicurezza i locali, si tratta di pagare le tasse e di comportarsi secondo le regole. Questo ti porta l'azienda spesso in una situazione di concorrenza sleare da parte degli altri soggetti che operano diversamente. Ma il numero di aziende che stiamo sequestrando e che stiamo gestendo in questo modo, la speranza, e qui siamo d'accordo appunto con Confindustria e Confcommercio a Roma, la speranza è che fungano da esempio, da traino, per un effetto di contagio per altre imprese del settore. Anche perché chi si comporta scorrettamente e si espone anche a un rischio, un domani, di essere vittima di un'altra procedura. Ricordate che le procedure di prevenzione non riguardano soltanto la criminalità organizzata, ma qualunque attività delittuosa più o meno abituale. Quindi compresa anche l'elevasore totale, compreso anche il truffatore, il bancarottiere e così via. Uno dei problemi che si deve affrontare subito, ma forse ne parlerà meglio il collega, è quello tra i costi dei debiti pregressi. Il codice antimafia stabilisce che non si dovrebbero pagare i debiti pregressi che andranno verificati all'udienza di verifica dei crediti. Questo è sempre nella visione fallimentarista del codice, perché non si vuole fare una specie di pagamento privilegiato nei confronti di alcuni creditori e basta. Sarebbe una bancarotta preferenziale come visione. Ma se io parlo di un'azienda viva e vitale, questo discorso non ha alcun senso. E non pagare alcuni debiti pregressi è una follia, oltre che essere praticamente impossibile, perché se l'azienda ha un debito con l'Enel, o Acea, o comunque il somministratore di energia elettrica, se io non pago, chiuda. Non mi dà più l'energia e chiudo l'azienda. Ma come avevamo già stabilito prima che venisse approvato il codice antimafia, in realtà se io mi trovo di fronte a un debito per una fornitura, per un qualcosa che sto utilizzando con l'azienda che sequestro, io non vedo come posso non pagare. Per cui io mi assumo la responsabilità, non essendoci una sanzione processuale, di indicare all'amministratore giudiziario spesso di pagare i debiti che abbiamo col fornitore, di cui ho accertato l'effettività della fornitura, ovviamente, e la congruità del prezzo. Per organizzare al meglio la gestione dei beni, oltre al protocollo, abbiamo visto che in realtà è necessario garantire una comunicazione dei dati e delle informazioni con i soggetti con i quali dobbiamo interagire. Il problema è che non si può incolpare il comune di non aver chiesto la destinazione di un determinato bene se non sa che quel bene esiste e quali sono le caratteristiche di quel bene. Per questo fine stiamo... anche questo entro due settimane dovrebbe essere pronto un enorme database con tutti i... con i dati estesi di tutti i beni che sequestriamo o che siamo... che sequestriamo. Database che dovremmo inserire nel sito del Tribunale per poterlo comunicare a tutti i soggetti interessati. in questo modo il soggetto interessato comune, regione, forze di polizia, alcuni ministeri possono immediatamente individuare i beni di interesse l'idea è che cliccando sul codice del bene escono fuori anche le immagini dell'immobile piuttosto che dell'azienda e chiedere immediatamente o manifestare immediatamente l'interesse per poi valutare la destinazione. Per i beni mobili stiamo pensando di utilizzare per i beni mobili che non debbano essere assegnati alle forze di polizia o chi richiede le autovetture per esempio o al limite anche dei musei perché sequestriamo anche opere d'arte di metterli sul, sempre tramite database sul sito del vendite online delle asse giudiziarie sostanzialmente per esecuzione mobiliare stiamo facendo, ma anche questo entro due settimane dovremmo concludere questo accordo entro due settimane che tra due settimane è il mio compleanno e quindi vorrei chiudere come regalo di compleanno tutto questo in questo modo potremmo vendere tutti i beni mobili che non devono avere destinazione pubblica in tempi veloci evitando che si deprezzino perché ovviamente l'autoveicolo sapete che si deprezza del 10% ogni sei mesi minimo avere liquidità e venderle anche al prezzo migliore perché è un'asta sul territorio nazionale di un sito molto ben seguito senza che l'amministratore giudiziario debba impazzirsi con la pubblicità sui vari seconda mano portaportese, riviste eccetera con esiti spesso piuttosto modesti per i beni immobili per cui non vi siano richieste da parte dei soggetti possibili destinatari l'idea è se possibile di metterli sul mercato quello residuo ma dubito che ci sarà un grande residuo perché l'esigenza di immobili per persone senza casa per studenti fuori sede per aiuto agli anziani per centri antiviolenza per dei campi attrezzati rom e quindi anche i terreni che sequestriamo è talmente enorme che dubito che avanzerà molto e quindi non rovineremo il mercato immobiliare immettendo troppi beni per tranquillità di chi è in questo settore l'idea ulteriore o meglio la speranza ma posso confidare nei miei colleghi è che un sistema di questo genere venga adottato anche dagli altri tribunali questo per consentire una gestione ancora migliore e anche una visione più completa da parte dei soggetti destinatari dei possibili utilizzi dei beni perché uno dei problemi è che io il Tribunale di Roma sequestro beni a Roma ma li sequestro anche in Calabria in Sicilia e in altre regioni così come i colleghi di Napoli Reggio possono sequestrare beni a Roma di cui io ma neanche il Comune abbiamo alcuna notizia perché non c'è nessun protocollo tra il Tribunale di Palermo è difficile immaginare un protocollo tra il Tribunale di Palermo e il Comune di Roma ma se noi mettiamo in rete tutte queste comunicazioni il Comune di Roma potrà sapere qual è esattamente l'insieme dei beni tra virgolette disponibili e verificare anche se beni che provengono da diverse autorità giudiziarie per la vicinanza fra di loro o per alcune particolari caratteristiche consentono un impiego diverso e più utile rispetto all'impiego possibile del singolo bene faccio un esempio se il Tribunale di Roma sequestra l'immobile qui davanti e il Tribunale di Napoli sequestra l'immobile accanto dall'unione dei due immobili il Comune o lo raccomando i Carabinieri o la Questura eccetera può trarre lo spunto per gestirli per una cosa importante molto più che dall'utilizzo dei due singoli immobili e quindi avere un rilancio importante sia come immagine dell'utilizzo del bene che sconfischiamo sia come risparmio importante della spesa pubblica io ti passerei la parola perché sì soltanto ho una questione proprio sul tema che stavi ponendo tu proprio per lo scambio delle esperienze e perché noi avevamo pensato di fare questa banca dati dei beni e metterle online però ci siamo un po' scontrati con problemi di privacy e cose di questo genere perché il sito del Tribunale lo abbiamo e siamo in condizione di farlo anche in tempi abbastanza che già i file d'Excel ci sono tutti però siamo un attimo fermi riflettendo sulla questione dei dati che possiamo inserire in questa banca pubblica ma noi nella banca pubblica non mettiamo i dati personali mettiamo i dati del bene però poi affaccia la fotografia del bene vabbè ma possono addirittura andarselo a vedere visitarlo entrarci possono fare qualunque cosa non abbiamo un problema di privacy poi prima l'offriamo in via riservata utilizzando il sito con password ai soggetti possibili destinatari pubblici solo se dopo sei mesi per dire nessuno ci fa alcuna richiesta per quel bene quel bene possiamo cercare di destinarlo al mercato ma come dicevo prima la fama è tale e la crisi economica è tale l'assenza di fondi del comune e della regione è tale per non parlare delle forze di polizia con i commissariati che si chiudono perché non ci sono i soldi per pagare l'affitto non perché si riduce che non credo che avanzerà molto quindi sono piuttosto ottimista che gestendo così il bene oltre a realizzare quelle che sono le finalità vere della misura di prevenzione riusciamo anche a realizzare un importante risparmio nella famosa spending review grazie a tutti